Grazie di questo video perché appunto due compagne del liceo che tra l'altro ho rivisto solo recentemente, quindi è simpatico. Tutti i quattro a me dieci, questo è unfair. Tra l'altro Giustina mi aveva tirato qui dicendo che avrei fatto il balletto, quindi devo fare soltanto sorrisi, magari così, bella presenza e niente parole, invece adesso mi ritrovo a dover parlare, non avevo preparato niente. Comunque mi date spunti facili per partire. Prima di tutto un piccolo commento. Le cose in America si muovono rapidamente, la digital persona non c'è più, è stata venduta e quindi io non sono più associato alla digital persona. Sono qui a rappresentare l'ISNAF che come avete visto nel nome, è un'associazione di scienziati e scholars. Quindi la domanda che tutti vi dovete porre è questo qui che ci sta a fare in questa assemblea di professori universitari e esperti di varie cose. In effetti volevano una rappresentanza di qualcuno che ha esperienza nel business e hanno trovato me. Quindi io sono un pochino atipico nell'ISNAF, però sono stato parte dell'ISNAF dall'inizio e mi ricordo le discussioni che c'erano. Come ha detto bene Giustina c'è questo grande attaccamento all'Italia da parte di tutte le persone dell'ISNAF, tutti questi professoroni che però si sentono italiani e vorrebbero fare tanto per l'Italia. La cosa interessante è che ci sono state tante discussioni su come aiutare l'Italia e di fatto è molto difficile trovare una risposta per vari motivi. Uno è perché spesso non è facile ascoltare e poi anche accettare dei commenti che vengono dall'esterno. Mi è capitato anche a me quando sono rientrato in Abruzzo per fare gli investimenti mi è capitato di fare qualche discorso e magari di muovere delle critiche e poi mi sono ritrovato la gente che per strada mi diceva più o meno ma tu chi credi di essere? Noi viviamo la realtà qui e tu vieni e fai le prediche. In effetti la verità è un po' nel mezzo come sempre. È vero che stando dal di fuori uno non vede tanti dettagli importanti però è vero pure che magari vede la foresta e non solo gli alberi. Quindi sarebbe più utile mantenere un dialogo con le persone che stanno all'estero però di fatto non è facile essere propositivi e arrivare a avere un impatto in Italia. L'iniziativa invece dei giovani ha un impatto immediato e moltiplicativo ed è una cosa a cui mi sento molto vicino perché dopo tutto anch'io sono stato un giovane adesso pare strano che alla mia età uno possa essere stato giovane però in effetti sì sono stato giovane e anch'io ho avuto questa possibilità di cambiare prospettiva. Nel mio caso non c'è stata l'ISNAF che mi ha mandato in America, c'è stata la fidanzata italiana che mi sono ritrovato grazie a Dio e che quando vedo quei discorsi per promuovere le donne io trovo la cosa assurda perché io ho tutta la vita che devo impormi con mia moglie, vediamoci che ci sto fatto anche professionalmente lei è stata una delle prime a laurearsi in non era come si dice un plug, era proprio una cosa che viene dal cuore lei è stata una delle prime persone e donne a laurearsi in scienza dell'informazione a Pisa e quando si ha la buona sorte e l'intelligenza di scegliere una strada giusta poi tutto è facile praticamente lei appena si è laureata andava in giro per l'Europa a congressi segretaria di questo, segretaria di quell'altro, l'APL e questo le ha dato la possibilità di ricevere una borsa di studio dell'IBM in America e quindi lei, siccome io avevo appena, mi ero laureato, avevo lavorato un pochino stavo lavorando a Pisa con la Selenia e mi sembrava, era una borsa di studio mi avevano promesso che mi assumevano, quando lei ha detto che voleva andare in America ha detto ma no adesso il posto, mi danno il posto, non possiamo andare e lei ha detto bene, io vado, tu che fai? e quindi con grande rapidità ho deciso dimostrando quel senso di leadership che poi ho continuato quindi nel caso mio appunto c'è stata questa fortunata storia spinto da mia moglie, siamo andati in America tra l'altro anche tutte le scelte poi sono state molto casuali nel senso che lei aveva un lavoro però già mia madre aveva il problema che se lei lavorava io ero uno studente insomma era un pochino difficile non è che poteva andare lì e non fare niente ecco questo volevo dire, spesso a volte una persona va all'estero lo sposo o la sposa sta due mesi, tre mesi senza fare niente però io avevo un senso di responsabilità verso mia madre non verso mia moglie e allora mi sono iscritto all'università di Stanford e quindi ho fatto una bellissima esperienza lì che mi ha aperto la mente e questo fatto dell'aprire la mente è una cosa che se uno non la prova non la capisce che però appunto voi attraverso questi giovani che vanno in America dovreste stare vicino a questi giovani ascoltarli, sentire un pochino le loro esperienze io ho fatto un'esperienza molto diversa di quella che potete fare voi con questi giovani ma con mia nipote un anno e mezzo fa dopo essersi laureata in filosofia il quinquennio, non il triennio e con mia madre che è preoccupatissima cioè cosa farà questa povera ragazza con una laurea in filosofia io volevo darle un po' una mano allora l'ho invito io ho dato il premio per la tua laurea vieni in America è venuta in America e quello che è successo a questa ragazza di 24 anni è incredibile perché in tre mesi andando sempre a scuola tutti i giorni di inglese è riuscita a imparare l'inglese diciamo che sembra un problema insormontabile qui in Italia diciamoci la verità pochi parlano l'inglese ed è un handicap incredibile ormai il mondo necessita la conoscenza almeno a un certo livello dell'inglese mia nipote con tre mesi di scuola di inglese ha imparato l'inglese non solo ma ha capito che il mondo era molto più grande di quello che vedeva lei a Chieti perché lei era andata anche all'università a Chieti, vissuta a Chieti è andata all'università a Chieti proprio un po' non è che si era ancora aperta la mente e quindi ha deciso che in realtà sì, aveva fatto filosofia ma voleva provare a fare qualcos'altro quindi è tornata in Italia ha fatto domanda per un master in marketing communication qual era il requirement più critico era il parlare inglese le hanno fatto l'esame un pezzo del test in inglese e lei ha dovuto parlare inglese se non avesse imparato in quei tre mesi l'inglese non avrebbe neanche potuto partecipare mi diceva Giustina che una selezione spesso in questi ragazzi che partecipano al concorso è l'inglese la mancanza di inglese oppure il fatto che uno parla inglese quindi noi italiani siamo bravi a fare i discorsi dei massimi sistemi purtroppo i discorsi dei massimi sistemi sono complicati e difficili Macchiavelli diceva che la cosa più difficile e di esito più incerto è di portare a un nuovo ordine delle cose e dava una spiegazione chiarissima perché diceva quando si cambia l'ordine delle cose le persone che nel passato avevano un privilegio vedono il rischio di perdere il privilegio e quindi sono contrarissimi al cambiamento le persone che invece si avvantaggeranno del cambiamento non hanno ancora l'immaginazione non vedono chiaramente questo che succederà nel futuro e quindi sono dei sostenitori molto tiepidi quindi c'è gli oppositori determinati e i fautori tiepidi e quindi portare un cambiamento è difficilissimo quindi quando in Italia si parla tanto di innovazione, di start-up voi dovete capire che queste sono le cose più difficili e con più cambiamento e il motivo per cui l'America poi riesce ad avere successo probabilmente ha a che fare con una accettazione del cambiamento che in Italia io non vedo noi siamo in una cultura vecchia vecchia nel senso magari antico possiamo dire se non vogliamo sentirci offesi ma c'è un radicamento delle cose così profondo che cambiare in Italia è difficile e questa è la spiegazione che mi do io per il fatto che dopo tanti anni che vengo qui e sento sempre i politici e di io dobbiamo fare questo dobbiamo fare quell'altro poi non succede niente la mia spiegazione è che la società italiana è oggettivamente molto rigida è molto ricca però la ricchezza culturale di tradizione e tutto c'è anche un contenuto di immobilità insomma i discorsi grossi sono difficili certamente io non mi azzardo neanche a cominciarli quindi per l'ISNAV ma probabilmente come suggerimento per tutti è di fare delle piccole cose all'ISNAV abbiamo trovato che aiutare questi giovani ad aprirsi al mondo a imparare l'inglese e a scoprire modalità diverse di lavorare è il dono migliore che possiamo fare e speriamo che col vostro aiuto col vostro entusiasmo potremo dare questo regalo a molti più giovani negli anni futuri quindi mille grazie Pierluigi Pierluigi rimani qua con me grazie difficoltà di portare un nuovo ordine delle cose mi sono segnato e spesso mi sembra che tante componenti della nostra società siano più impegnate a difendere status piuttosto che andare avanti mettendoli in discussione è difficile è facile vorrei evitare appunto quello che mi è successo negli anni passati dicevo una cosa e poi la gente mi rifaccia è difficile quando faccio un'osservazione ma è ovvio che essere in una situazione di privilegio si sta bene qualsiasi cambiamento che rischia di eliminare ridurre il privilegio è faticoso ci vogliono i santi di loro sua sponte decidono di fare il cambiamento quindi però il mondo cambia uno può resistere 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 ma a un certo punto poi c'è il cambiamento è ancora più duro più difficile perché si sia resistito troppo al cambiamento una sola precisazione rimani qua con me chiamo Fabio Bonfa non so se c'è Armando Armando è in sala se qualcuno lo chiama o se poi Armando entra venga anche Armando e Gino Vinci perché adesso iniziamo la premiazione delle borse di studio Gino per la scuola e per il consiglio nazionale veramente un piacere un onore da darti questo segno importante noi crediamo nel futuro e certamente tu sei stato già da un po' nel futuro ecco questo credo che sia però non so se sono ingegnere perché non sono iscritto all'albo e questa è l'occasione per iscriverlo quindi credo che ha fatto l'esame ha passato l'esame comunque questa non è condizionata all'iscrizione ingegneristi allora però ecco può essere una promessa per il futuro Armando Armando ecco qua Armando adesso possiamo iniziare con la premiazione rimane anche Pierluigi con noi per premiare i ragazzi un po'